acer si accende ma non visualizza vediamo alimenta tasto di accensione qua c'è qualcosa di strano sembra che manchi posizione un po strana non è il lead sensor comunque qua manca qualcosa cerchiamo innanzitutto dov'è il 3,3 volte comunque l'assorbimento è normale cerchiamo 3,3 volte sullo spinotto di accensione vediamo un po' in quale 3,3 ok vediamo quello dopo 3,3 vediamo un po' dopo 0,8 0,8 0,7 0,7 ora il quarto è 0 quindi quarto è ultimo quarto è ultimo vediamo un po' terzo e quarto no invece no erano i primi di sinistra si è acceso si accende ma non visualizza va di avendo lo giro adesso ho avventuto 3 e parte ok grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.